Vedo l'ultimo perché viene coperto dalla palma di Enzo Fostorino Recupero di Miglianisi, Triolo, Triolo da solo, realizza 5, dallo stesso angolo ma questa volta non va, la recupera Faia ma Leo Manti chiama la venda, Palla a Malavenda Miglianisi prova la tripla, che va Palla, Palla, Enzo Fostorino dentro, Triolo dall'an Tripla, Baschette Bellaro in formissima Ci prova di nuovo Palmi che Transizione per Baschette Bellaro con una palla molto ambiziosa Perde palla e Ciccio Triolo in Ci prova Alessandro Vienesi con davvero un buon avvio Ci prova spampinato al mezzangolo Guardate il tiro, Sturnuolo Buon giro, palla del Palmi che Arriva, tripla, che non va Angolo, Cipri, in attacco Giovanini, intanto dall'angolo Romano, Nino Romano Ciccio Triolo, finta il tiro da tre Miglianisi Inizio, intanto Palla in angolo Palla in A Davvero in questo momento ho poche idee per il Baschette Bellaro che trova meno spazio Però in questo momento allarga subito per Cipri Cipri per Grillea Buon velocissimo Viglianisi che fa tutto da solo E mette Ancora Viglianisi Stoppa con la sua penetrazione Palla che torna Cipri Allarga per Grassi che Realizzare Romano, palla a Postorino Romano ancora dall'angolo Realizza Prende il tiro ma non va Enzo Postorino con il step out in attacco Nino Romano Realizza Enzo Postorino allarga in angolo per Viglianisi che Realizza Realizza altri tre Ancora Rizzieri Ancora Rizzieri Palla a Malavenda Buona difesa di Palmi in questo momento che si chiude molto bene Però Viglianisi Sì davvero Viglianisi giocatore Pazzesco Tutto tondo che riesce a fare la differenza In un campionato Che dovrebbe essere vecchio E intanto ha Di Alessandro Viglianisi Nel frattempo Palmi ha subito Recupera palla ancora Ancora Romano Palla a Giuseppe Malavenda che in questo momento è fresco Palla a suo fratello che da tre Realizza Consiglio di maggioranza a Palmi Dopo le elezioni è arrivato in ritardo Chissà se con il spampinato in campo Sin dall'inizio E tutto il suo carattere Bomba nel frattempo Ma questa volta non va Ergol Probabilmente potrebbe essere anche un po' stanco L'arrivo L'arrivo Che però non va Primo ferro Si infatti il primo ferro Pellicano corre Corre Pellicano Contro Albanese Però vince Come testimone all'Anche Antonello Riva Intanto palla in angolo Palla in angolo per Bellissimo Palla a Gini Albanese Che prova la penetrazione di esperienza Ma che spettacolo ragazzi Grillea Grillea con una tripla per A chitarla quindi prova l'azione solitaria Solitaria si ritrova Ciccio Triolo Con un bel passaggio per Malavere Cipri per Grillea Grillea che è la prova da tre Ciccio Triolo Prova la penetrazione Bellissimo passaggio E ottima guardia di Ciccio Triolo Che si complica la vita Ma Viglianisi Proverà la resta e tiro No Finta E Bellissimo Lancia Lancia Campolo Per due punti Che va